Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovate al consueto appuntamento con il TG10, ampia parte del telegiornale che dedichiamo alla vertenza Eni. Ieri incontro al Mise tra i vertici del colosso industriale, il governo centrale e quello regionale, il comune e i sindacati. Si è deciso che a breve apriranno alcuni cantieri della bioraffineria. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ribadisce l'impegno dell'amministrazione comunale. Vediamo. Un'accelerazione sulle autorizzazioni che dovrebbero consentire di dare il via libera ai primi cantieri della Guin Refineri a Gela, ma ci sono tanti dubbi a cominciare dal finanziamento dell'area di crisi complessa. E' quanto emerso ieri al termine dell'incontro che si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma in merito alla vertenza Gela. Il latavolo interministeriale ha messo uno accanto all'altro rappresentanti dello Stato, del governo regionale e del comune di Gela, sindacati ed Eni. Domani intanto si riunirà la Commissione del Ministero dell'Ambiente per la non assoggettabilità della valutazione di impatto ambientale. Il progetto Guaiulla rimane in alto mare, secondo i sindacati, dato che sarebbero ancora in corso attività di ricerca ed eventuali campi da utilizzare per la coltivazione. Sono tre i cantieri di bonifica che dovrebbero partire a breve, su un totale di 11. Si accelera ma non si conclude? Si accelera per un momento di stasi che non portava sicuramente a nulla un'accelerazione, con tempi a 30-60 giorni di avvio di cantieri, già sono dei dati diversi. È chiaro che era normale che in un tavolo si debbano, che fra l'altro cosa è un tavolo di verifiche e di controllo, proprio per la continuità, per l'attuazione del protocollo d'intesa. Noi stiamo cercando di allargare anche le prospettive. Questo è quello che stiamo cercando di fare, tra cui i sindacati, devo dire, hanno sottolineato parecchio il discorso degli ammortizzatori sociali, perché se non c'è lavoro ci deve essere almeno un sostegno al reddito. Questo l'hanno sottolineato in modo chiaro, in modo forte, perché giustamente quando nel protocollo c'era scritto che veniva garantito un reddito nelle fasi transitorie, ma questo di fatto sta avendo degli impedimenti ed è stato fatto risaltare. Io spero che partino il prima possibile i cantieri. L'ENI ha detto che a maggio partiranno già i primi, c'è qualcosa che partirà addirittura anche a marzo, però il problema è anche il numero di persone e di addetti che ci saranno occupati e il tipo di addetti che ci saranno occupati. I lavoratori che sono qui, oggi il Comune di Gela cosa dice? Quando andranno a lavorare? Perché aspettano notizie concrete, fatti immediati? Il fatto immediato era difficile che si potesse avverare sin da subito. C'è ne riuscita a partire qualche piccolo candiere già nelle prossime settimane, ma fatti immediati era sicuramente difficile, anche perché stiamo riuscendo a smuovere delle autorizzazioni che erano ferme da anni e svincolare tutta una serie di attività che negli ultimi mesi sono state praticamente ferme. E recuperare un anno e mezzo nel giro di 3, 4, 5 mesi non è così semplice, perché è abbastanza complesso considerando che operiamo all'interno di un sito di interesse nazionale e che operiamo all'interno sempre di un polo industriale che è stato di fatto dismesso e spento. Quindi era meglio prevenire. Adesso noi dobbiamo gestire quello che ci hanno lasciato, che sinceramente non è il massimo, è di difficile gestione. Il problema dei lavoratori è giusto che vengano, se non c'è la possibilità di lavorare, che ci siano gli ammortizzatori sociali. Su questo devo dire che anche i sindacati sono stati molto chiari e l'hanno ribadito. Infatti stanno prestando anche con il Ministero del Lavoro, oltre che a questo tavolo di verifica del protocollo d'intesa. Però è chiaro che i passaggi che sono stati fatti vanno per far attuare intanto questo protocollo, ma in realtà è sempre un palliativo. Perché questo, come ben sappiamo, quando si va a concretizzare tutto il protocollo d'intesa, sappiamo che non tutti potranno lavorare. Né adesso, e il numero di addetti fra due anni sarà molto ridimensionato. Quindi la sfida maggiore è quella di costruire qualche alternativa che fino adesso non è stata fatta. Anche il Vice Presidente della Regione, Mariella Lobello, dice che il Governo regionale sta facendo la propria parte. Sentiamo. Vice Presidente, è soddisfatto dell'incontro avuto oggi oppure si poteva ottenere di più? Oggi è stato un incontro che aveva un duplice obiettivo. Prima segnare il ruolino di marcia, capire a che punto eravamo e se eravamo in ritardo rispetto ad alcune questioni. E poi fare chiarezza su altre, come quella sugli ammortizzatori sociali. Quindi abbiamo deciso due cose. Che con il Ministero ci incontriamo subito dopo le festività pasquali, per capire intanto l'avviso che è stata fatta e la chiamata ad aziende che vogliono insediarsi a Gela, che tipo di risposta c'è stata e dall'altro un tavolo invece regionale per discutere sulla proposta che il Sindaco ha fatto sull'utilizzazione dei 32 milioni di euro che dovevano essere una sorta di misura compensativa per la città di Gela, spostarle invece su uno studio che deve poter guardare al porto di Gela. Premetto che anche la questione del porto non può essere vista in un rapporto quasi a due tra Regione e Comune. credo che debba essere interessato l'assessorato alle infrastrutture come pure il Ministero delle Infrastrutture. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, le organizzazioni sindacali faranno arrivare all'assessore al lavoro una richiesta d'incontro proprio perché attorno a quel 5% bisogna definire regole e tempo. Ma i cantieri quando partiranno? Abbiamo una data precisa? Per quanto riguarda i cantieri l'appuntamento del subito dopo Pasqua riguarda questo. sembra che a fronte dei 14 cantieri individuati per 3 ci sono tutte le autorizzazioni e per 6 ci saranno entro la fine del mese. Per cui sui 14 individuati 9 potrebbero essere pronti a partire immediatamente. Intanto a seguito della lettera aperta e inviata alcuni giorni addietro il Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini ha fatto pervenire risposta esprimendo il proprio desiderio e impegno di incontrare i membri del coordinamento donne per il territorio Gela al fine di discutere e dialogare in merito alla grave crisi occupazionale che interessa la città. L'incontro si terrà durante il mese di marzo in data e luogo ancora da definire. Nei giorni precedenti all'incontro il coordinamento si riunirà per elaborare e definire contenuti della discussione. Intanto alcuni operai dell'indotto dello stabilimento hanno scritto una lettera al Papa. Vediamo. Questa è una terra abbandonata da tutti, ma dove la realtà maligna della mafia sul bisogno e sull'insicurezza economica di tante persone potrebbe alimentare il suo nome. Aiutaci Santissimo Padre, aiutaci. Hanno consegnato una lettera a Papa Francesco esortandolo a pregare per loro, per gli operai che soffrono. Si rivolgono alla Chiesa Marco Camarata, Emanuele Zappulla e Franco Biundolo. Siamo stati dal Santo Padre, conosce bene la situazione, ma ora noi siamo arrivati qua al Ministero con la speranza che oggi si possa risolvere qualche cosa, ma ci credo, onestamente io parlo chiaro, ci credo poco. Venendo dal Vaticano, che il Papa parlava proprio della dottrina sociale, in quanto parlava dei vari ruoli, i ruoli attribuiti ai politici e a tutte le strutture sociali, che stanno veramente abusando adesso delle nostre questioni e questi poteri forti stanno cercando di sradicare la nostra identità degli operai. Il Santo Padre sa tutto, noi abbiamo consegnato due lettere, una scritta dell'Indotto, in cui parla appunto della strage che è stata fatta a Gela e in più un'altra lettera riservata del parroco Don Giorgio Cilindrello della parroche di San Francesco, che parla anche del disastro di Gela. Ecco qua noi ci aspettiamo che decideranno finalmente del futuro di Gela. Noi auguriamoci che qua faranno qualcosa, almeno per salvaguardare i posti di lavoro, perché il programma prevedeva che non si doveva perdere nessun posto di lavoro. Tant'è vero, la mazzata ultima è quella della smimme. In merito alla vertenza Gela sentiamo le rivendicazioni del sindacato. Vediamo. Passo avanti per i iter autorizzativi finalizzati all'avvio dei cantieri per la creazione della biorafineria e domani incontro alla Commissione del Ministero dell'Ambiente per la non assoggettabilità della via, la valutazione di impatto ambientale, che avrà esito entro il 12 marzo prossimo. Cigel e Cisle Will nel corso dell'incontro di ieri al Mise hanno rivendicato l'avvio delle bonifiche ed alcune sono già in fase di appalto e sono tre su un totale di 11 e di queste sei si avvieranno entro 60 giorni. Le restanti due sono di competenza della Regione Sicilia e si riferiscono all'area di Pozzillo e Camarata, già dismesse dove c'erano dei pozzi. Tutti i cantieri riferiti all'attività di esplorazione a mare hanno subito dei rallentamenti perché si aspetta da parte del Consiglio di Stato la sentenza slittata al 9 giugno prossimo. In merito al progetto Guaiul, la Regione Sicilia si è impegnata a trovare altre aree attraverso l'ESA nella provincia di Caltanissetta per la sperimentazione dello stesso. I sindacati esprimono perplessità riferite a tempi e modalità. Per quanto riguarda il progetto GNL, gas naturale liquefatto, in previsione dell'utilizzo da parte di navi potenzialmente interessate, il Governo si è impegnato a valutare le condizioni di mercato e la relativa appetibilità. Durante l'incontro di ieri è stata evidenziata a più riprese l'utilità dell'area di crisi complessa e qui si è registrato uno scontro con il Governo perché ad oggi l'area di crisi, non solo per Gela, non beneficia di una legislazione speciale. Dunque c'è grande preoccupazione sul destino dei lavoratori privi di ogni sostegno economico. CGL e Cislewil hanno tenuto un tavolo regionale per trovare soluzioni sugli ammortizzatori sociali in deroga a beneficio di più di 100 lavoratori dell'indotto in considerazione dei 74 milioni di euro che la Regione ha a disposizione. Pur prendendo atto da Eni dell'utilizzo di circa 1.300 risorse dell'indotto nei tre siti Eni presenti a Gela, le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'avvio immediato di cantieri per un maggiore utilizzo di lavoratori metalmeccanici ed elettrostrumentali. Per CGL e Cislewil le proteste sindacali dell'ultimo mese hanno prodotto un risultato sperato dal territorio, cioè maggiore attenzione da chi può e deve decidere la riconversione e quindi l'avvio della riqualificazione del personale. CGL e Cislewil a tutti i livelli hanno convenuto durante un incontro sulla vertenza Gela di attivare la presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere misure straordinarie ed immediate. Il Ministero riconvocherà le parti entro 45 giorni. La Regione Siciliana la prossima settimana. Cambiamo argomento, siamo alla cronaca. Nel 2009 accoltellò un suo amico mentre erano in macchina. A sette anni di distanza il gelese Simone Adriano Pretin, disoccupato, 52enne, è stato arrestato dai carabinieri. Dovrà scontare la condanna di cinque anni e due mesi. È accusato di lesioni personali aggravate e porta abusivo di armi. Atte ad offendere Pretin, secondo gli inquirenti, mentre si trovava a bordo, seduto sul lato destro dell'autovettura, all'altezza del piazzale antistante allo stabilimento Eni, nel corso di una discussione nata per futili motivi, colpì il suo amico per causarne la morte. Auto in fiamme, la scorsa notte in Viendovina, nel quartiere Settefarine, a Gela, a una Ford Fiesta di proprietà di un operaio di 46 anni. Le cause sono in corso di accertamento. L'incendio si è verificato intorno alle 4. Arriva la risposta da parte dell'assessore alle autonomie locali, Luisa Lantieri, dopo la diffida presentata dal Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, assieme ai tre sindaci e ai comitati pro-catani, a causa dei troppi ritardi nel passaggio definitivo nell'area metropolitana di Catania. La Lantieri ha comunicato che gli uffici di diretta collaborazione dello stesso assessorato hanno trasmesso per le determinazioni della giunta regionale nella prima seduta utile i disegni di legge relative al distacco dei comuni di Gela e Niscemi dal Libero Consorzio di Comuni di Caltanissette e Piazza Armerina del Libero Consorzio di Enne e fini della loro adesione alla città metropolitana di Catania. Prendiamo atto, così come accogliamo positivamente l'impegno dello stesso assessore ad inoltrare nuovamente i disegni di legge in argomento presso la giunta regionale. Hanno riferito i componenti del comitato. Il prossimo passo, seguendo l'iter tracciato dalla legge regionale 4 agosto 2015, sarà la delibera della giunta regionale retta dal presidente Crocetta con trasmissione all'ARS del disegno di legge contenente le modifiche territoriali ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane. Termina la prima parte del nostro telegiornale, linea alla regia per la pubblicità. Tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Aveva appena 11 anni Emanuela Bonura e frequentava la prima C della scuola media Paolo Emiliani Giudici. La sua giovane vita venne stroncata da un tragico incidente assieme a quella del suo fratellino Nunzio la mattina del 1 marzo del 1975. Sono passati 41 anni da quel tragico giorno a 41 anni da quella disgrazia che colpì l'intera città. La scuola Paolo Emiliani Giudici vuole ricordare i due fratellini con una cerimonia commemorativa. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico Giovanna Palazzolo e dall'intero consiglio d'istituto. La cerimonia si svolgerà il 1 marzo nella cappella della scuola dove verrà ricollocata una targa ricordo alla presenza dei genitori dei due sfortunati bambini. Gli alunni e docenti della loro prima C prenderanno parte alla commemorazione il sindaco Domenico Messinese e procuratore Lucia Lotti e Salvatore Parlagreco, ex docente e direttore di Sicilia Informazioni e presidente del Cerisdi, il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela. Valerio Marra e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana. Preside, nell'ottica di una scuola per tutti e di ciascuno si avviano progetti che riguardano proprio l'inclusione. Oggi è importante, si parla di soggetti che purtroppo vivono un disagio fisico evidente. Si tratta di soggetti con pluri minorazioni e noi ci stiamo appoggiando e proprio chiedendo l'aiuto, l'assistenza e sfruttando, posso dire questa parola, sfruttando la professionalità e l'esperienza di chi in questo settore opera e quindi ci stiamo appoggiando alla Lega del Filodoro. Oggi alla Romagnoli è presente la componente regionale della Lega del Filodoro, è una Lega di carattere nazionale, è una Lega che da 50 anni si impegna per favorire il miglioramento della qualità della vita per tutte le persone che hanno minorazioni plurime. Vivete il dramma di un bambino che purtroppo non vede e non sente. Come è cambiata la vostra vita quando avete incontrato gli angeli del Filodoro? È cambiata perché innanzitutto abbiamo potuto trovare un sostegno morale perché per una famiglia che si trova a vivere una situazione del genere accettare, prima di tutto capire che cosa deve affrontare e poi accettare queste conseguenze non è una cosa facile. Quindi la Lega del Filodoro ci ha aiutato a comprendere ciò che aveva nostro figlio e quindi anche ad affrontare le problematiche che avremmo dovuto affrontare nel corso degli anni. In questo ci ha aiutato perché tutte le figure che sono lì competenti danno sostegno e danno anche le istruzioni adatte per poter affrontare la situazione. La Lega del Filodoro si occupa certamente di situazioni non facili da affrontare. Il primo ostacolo probabilmente è quello di rendere consapevoli le famiglie e di far accettare un problema grave che sconvolge un nucleo familiare. Sì, effettivamente la Lega del Filodoro, intanto nata più di 50 anni fa ad Osimo in provincia di Ancona, lavora proprio su questo. Cioè nel senso che noi abbiamo proprio come missione il fatto di rendere una vita migliore a questi ragazzi, ragazzi che non vedono, non sentono e che hanno anche delle pluriminorazioni. Sicuramente uno degli elementi con i quali noi lavoriamo è la famiglia. È il primo punto di riferimento per i ragazzi che spesso non sanno dove e come comportarsi con questo tipo di disabilità. Su un bambino che non vede e non sente, si lavora sugli altri sensi, sul tatto, sull'odore? Sicuramente, sicuramente. Infatti l'obiettivo che noi ci prefissiamo è partire, ecco forse non so, è la nostra filosofia, partire da quello che i ragazzi hanno piuttosto da quello che manca. Si terrà sabato 27 febbraio alle 9.30 nei locali della chiesetta San Biagio il convegno dal titolo Crisi Finanziaria è possibile via d'uscita. L'iniziativa porta la firma di Presidium in collaborazione con le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Casa Artigiani. Saranno presenti i presidenti delle associazioni sindacali. Interverranno tra gli altri Domenico Raneri, revisore legale ed esperto in diritto bancario, e l'avvocato Salvatore Psaila. Al convegno saranno presenti anche il sindaco Domenico Messinese e il vice sindaco Simone Siciliano, assessore allo sviluppo economico. La Confesercenti dell'area sud della provincia di Caltenissetta, diretta da Roccopardo, informa gli utenti che il termine di pagamento per il rinnovo degli abbonamenti SIAE sarà prorogato dal 28 febbraio al 18 marzo prossimo. Inoltre, per tutti coloro che fossero interessati ad usufruire dello sconto per il rinnovo dell'abbonamento, possono rivolgersi presso l'ufficio di Corso Vittorio Emanuele al numero 45. Il 27 febbraio prossimo alle 11, l'Associazione di Promozione Sociale Ship Lab di Gela presenterà ad una rete di possibili partner il progetto Nice to Pitchu, una competizione di idee che mira di incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio di Gela. La presentazione si terrà presso Palazzo Mattina, in corso Vittorio Emanuele 411. Durante l'incontro saranno approfondite alcune tematiche riguardanti l'innovazione e i benefici di sviluppo territoriale, oltre ad una panoramica sui vantaggi fiscali derivanti dall'investimento su imprese innovative e start-up. L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti riguardanti le seguenti aree tematiche, tecnologia, smart city, turismo sociale, agroalimentare e arte. Dal 25 febbraio al 17 marzo prossimi si terrà a Gela presse i locali della Chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca a Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldia dal titolo La Sostenibilità nel Paesaggio Agricolo del Golfo di Gela. Il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico affrontando temi concreti per la gestione, progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di un'agricoltura sostenibile. Interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania ed esperti del settore. La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona. Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 Paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente. Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione, al dialogo interculturale. Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica. Dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita, in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno. I disegni migliori, sei per ogni scuola, dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente. I tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo. Sono previsti premi in denaro. Sono le aperte le iscrizioni al primo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana 2016, organizzato dal Comitato di Gela, aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di spendere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Età minima 14 anni. Il corso si compone di sette moduli a carattere teorico-pratico per una durata complessiva di 18 ore, durante le quali verranno fornite le nozioni base sul primo soccorso, BLS, sulla diffusione del diritto internazionale umanitario, nel quale è racchiusa la storia della Croce Rossa, e sulla protezione civile. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 25 febbraio prossimo, per informazioni 328-2477-645. Proseguono gli appuntamenti in occasione dell'82esima stagione concertistica gelese. Domenica 28 febbraio prossimo alle 19 al Palazzo Pignatelli, concerto del trio Echi Armonici con Maria Provenzano al pianoforte, Angela D'Amato al flauto e Giuseppe Cumbo all'Oboe. L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. La sottosezione dell'unità al sedigere in occasione delle festività di Pasqua effettuerà la vendita delle uova di cioccolato, appuntamento sabato 27 e domenica 28 febbraio prossimi nelle varie piazze dinanzi alle parrocchie. Infine c'è la pagina dello spettacolo, oggi all'antidoto sarà portato in scena servizio in camera di Emanuele Giammusso, sono due gli orari 18 e 21 e 30 per informazioni 093 382 27 07 338 7143 293. Sabato 27 alle 21 e 15 e domenica 28 febbraio alle 17 e 15 invece il Teatro Comunale Eschilo, al Teatro Comunale Eschilo, Flavio Brazzaventre, Guia Iele e Agostino Zumpo porteranno in scena la bisbetica domata per informazioni 0933 91 18 92 oppure 345 58 80 580. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che i servizi, approfondimenti e notizie sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci.